a te da anche a tutti a te a anche a tutti a tutti a tutti da anche a tutti a tutti dai colissimo dai vai vai a fare la vita vai 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 così vai un clue dino vai non è se sp teaspoon la candelina metta la candelina metta la candelina esprimi 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 se ne è caduto il stopino il stopino se ne è caduto ma il 36 non si vede bene spettisci le candelina esprimisci le candelina esprimisci le candelina esprimisci le candelina vai 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 grazie bravo bravo